All'Aquila verranno potenziati i terminal di interscambio delle stazioni di Sassascalo e Paganica. Il Comune ha di recente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per Sassa, a breve ci sarà anche per Paganica. Verrà realizzato un parcheggio di interscambio a Sassa, che con quello di Paganica adoterà la città di due nodi di scambio intermodale per ampliare l'offerta di trasporto pubblico. La tratta della ferrovia è Terni-L'Aquila-Sulmona. Oggi ci sono due tronconi, Sulmona-L'Aquila e L'Aquila-Terni, con 24 treni quotidiani con passaggi intorno ai 30 minuti, alimentati soprattutto da studenti e lavoratori. Anche se le stazioni di Sassa e Paganica sono state private di molte funzioni, con questi interventi, secondo l'assessore Paola Giuliani, si ridaranno spazi di vita e socialità alle frazioni. Vogliamo rendere queste stazioni più vivibili, quindi aumenteremo il verde, sarà prevista anche una pedonalizzazione più sicura sulla Statale 17, ci saranno degli spazi coperti con delle pensiline, delle stazioni di bike sharing, delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Sarà uno spazio più idoneo per la socialità, ma anche uno scambio intermodale. Ci sarà un ampliamento delle aree di sosta per i bus urbani ed extraurbani e magari questo potrà servire anche a far usare il treno da Sassa a Paganica con la fermata sull'Aquila con maggiore frequenza.